Cristo risorto, buongiorno fratelli e sorelle. Siamo alla sedicesima domenica del tempo ordinario e in questo giorno ascoltiamo un bellissimo Vangelo di Matteo, capitolo 13, lo stesso che avete già sentito durante la messa o che ascolterete quando andrete. E si parla di tre parabole, in particolar modo noi ci soffermiamo sulla prima della zizzania. Espose loro un'altra parabola dicendo il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero, Signore non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro, un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero, vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori, raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Ecco, dopo racconta anche altre due parabole, sia del granello di seme perché sia del lievito, ed ha una spiegazione di quella della zizzania, dicendo colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo e il mondo e il buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. E allora ai giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro, chi ha orecchi ascolti. Amen. Ecco, questa è l'interpretazione che Gesù dà ai suoi discepoli quando gli chiedono a spiegaci il significato di questa parabola della zizzania e del grano. E in effetti Gesù quando parla di questa parabola e del regno dei cieli parla in qualche modo dell'amore del Padre, parla della pazienza che il Padre ha con noi. E la pazienza che anche noi dobbiamo avere nella nostra stessa vita, proprio perché si dice che un uomo ha seminato del buon seme nel suo campo, venne su un nemico e si ominò della zizzania in mezzo al grano e noi lo sperimentiamo nella nostra vita. Sperimentiamo che in noi ci sono sì dei semi buoni, ma quotidianamente abbiamo relazione anche con il peccato, con la zizzania, non solo nella nostra vita personale ma anche interpersonale con gli altri. quante volte vediamo negli altri delle virtù ma anche dei difetti, delle cose che ci piacciono ma anche delle cose che non ci piacciono. E allora innanzitutto la prima esperienza da fare con Dio è quella che Dio ci ama così come siamo. Dio non ci rifiuta, non ci allontana, non ci disprezza per la zizzania che c'è in noi, per il peccato che c'è in noi, per le nostre mancanze, per le nostre cadute. Ma Dio invece è paziente con noi, giorno dopo giorno e lascia che crescano tutte e due insieme, il grano, il seme buono e la zizzania, per intervenire poi con la zizzania, per estirparlo. A volte ha dei metodi più dolci, a volte un po' meno, ma non perché è un Dio che castiga, ma perché è un Dio che ama e vuole purificarci, vuole renderci liberi, vuole darci qualcosa di cui abbiamo bisogno. Quando Dio interviene nella nostra vita fa una circoncisione, proprio come quella che c'era al tempo di Mosè, la circoncisione nella carne, lo Spirito Santo ce la fa nel cuore. Ecco perché noi cresciamo nel seme buono, ma a volte anche nella zizzania cresciamo. Se non diamo spazio allo Spirito Santo, se non diamo spazio al suo regno, ecco che dobbiamo oggi aprire il nostro cuore e da un lato ringraziare Dio, essere grati, perché Lui guarda il bene che c'è in noi. Quante persone, o quanti di noi, ma noi stessi a volte non ci accogliamo, non accogliamo i nostri limiti, i nostri difetti, o non accogliamo quelli degli altri e vogliamo subito falciare questa zizzania, tagliarla, dire non mi piace, oppure tagliare questa persona, tagliare le relazioni con la persona. Allora guardiamo a Dio come si comporta con noi, come si comporta con me, mi accoglie come sono, mi ama come sono, lascia che cresce questa zizzania insieme al grano buono e poi attraverso lo Spirito Santo interviene nella mia vita, perché Lui ha fiducia in me, ha fiducia in te. Dio non ci rigetta. Dio è venuto mandando il suo figlio non per condannarci, ma per salvarci. Giovanni 3. Dio ci ha tanto amato che ha mandato Gesù perché ciascuno di noi fosse salvato, fosse redento in Lui, non per condannarci, non per tagliarci e stirparci come la zizzania, però la zizzania la vuole stirpare da noi e allora oggi dobbiamo aprire il nostro cuore e dirle Signore vieni, Signore vieni nella mia vita. Io ti offro e presento la mia zizzania, io ti offro e presento tutto ciò che anche volontariamente ho lasciato crescere, a volte situazioni di odio, a volte situazioni di rancore, a volte dei peccati che faccio, delle azioni che non sono buone, non sono giuste, che ho accolto nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia, nel mio lavoro. Io te le offro, Signore, e grazie perché tu non mi condanni per quello che ho fatto, ma anzi tu vieni e mi offri il tuo regno, mi offri il perdono, mi offri la misericordia e io ti sono grato, Signore, perché tu sei un Dio misericordioso, un Dio giusto, non vuoi il mio sacrificio, ma vuoi la mia apertura e io ti invoco, Spirito Santo, vieni, apri i miei occhi perché io sia uno strumento nelle tue mani affinché tu possa circoncidere il mio cuore, affinché tu possa purificarmi, purificare la mia mente da tanti pensieri negativi, il mio cuore da tanti sentimenti che non ti appartengono e tutte le mie azioni, fa che in me risplenda il seme buono, il grano che cresce e affido a te la zizzania, Spirito Santo, perché tu mi possa aiutare a liberarmi di tutti quei pesi, quelle catene, quelle mancanze che non piacciono a Dio, vieni Spirito Santo, ho bisogno di te, senza di te non so far crescere da solo il grano, senza di te non so estirpare la zizzania nella mia vita e da questo segno Spirito Santo io saprò amare gli altri, amare coloro che mi metti vicino e saprò avere pazienza con loro, con la loro zizzania, perché ho fatto esperienza del tuo amore e della tua salvezza, amè. A te o Signore Gesù sia sempre l'onore e la gloria nei secoli dei secoli, amè. Carissimi, vi auguro una buona domenica, noi alle ore 10 e un quarto abbiamo la messa in streaming qui a Strona, invitiamo, se avete avuto l'occasione, non potete andare in chiesa a seguirci, accompagnarci, che la benedizione del Signore sia su di voi e possa splendere davvero la sua luce e brillare sulla vostra vita, nelle vostre case. Un caro saluto da Strona, buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.